Ascolti il tuo settembre. Grazie mille, ciao, ciao, ciao Ragazzi stiamo andando al museo delle illusioni Oh questo è fighissimo Sì vabbè dai Bisogna mettersi su questi puntini e da qua si vede perfettamente Mia sorella è dentro un cheeseburger Oh carina questa Oh di brutto Questo è bellissimo, questo lo voglio fare anch'io Questi quanti sono usati da tutti, sono caldissimi Che schifo Aspetta che c'è una tipa E in faccia, vai in faccia, in faccia, in faccia No questa è bellissima, questa è fichissima Questa è molto bella Aggrappati al, aggrappati al cane Prendilo così Eh no Esatto esatto Bellissima Anche lo squalo, guarda che lì fa surf Vai a fare surf Chiara, fai finta di surfare Ah Eh che figata Vai Ok No raga questa è stupenda Vai sorellina Devi tipo fare un po' più avanti Vieni più avanti, è più bella Esatto, è bellissima Non ha Non ha, non ha senso Raga sono i 25 20 dollari più ben spese della mia vita È giusto, è giusto E voglio fare questa Faccio una foto Questo Lo disposti Questo era molto bello Questo si prende da qua, è bellissimo Qua No, no worry, no worry Senta che zoomo Bello Abbiamo scoperto che le foto vengono molto meglio con il telefono Sono fatte a misura di iPhone, di fotocamera da telefono Raga è finito, è stato bellissimo, il più bello di tutti era questo Oh che figata Non avevamo visto questo La stanza quella strana Vai Che tu vai la e sei grande, io vado la e sono piccolo Diventa così Però avremo bisogno di uno che ci fa la foto Votre Sì Si Sì Si Si Era bellissimo Sto facendo le boccacce sulla faccia di quella di prima No che trash, che schifo Ragazzi è stato epico, veramente figo Spero che questo video vi sia piaciuto E se passate a Hollywood dovete assolutamente andare Raga tantissima roba Ci vediamo al prossimo video